Sfidando il lungo cammino del tempo, sono giunte assino a noi storie, miti e leggende sulla nascita dell'universo. Gli antichi greci raccontano che all'inizio esisteva solo lo spazio cosmogonico, vuoto e senza fine. Non esistevano le stelle, non esisteva la terra, non esisteva alcuna cosa del creato, era solo il caos, senza forma, al di là del tempo e dello spazio. All'improvviso, dal caos apparse Gea, la madre terra, principio di vita e madre degli uomini e della stirpe divina, prima realtà materiale della creazione. Dopo di lei apparvelo Eros, l'amore, il tartaro, l'uovo di punizione delle anime malvagie e l'erebo, la notte. Gea generò da solo Aurano, il cielo, che feconda la terra con una pioggia benefica, con il quale si unì e dalla cui unione nacquero i dodici titani, sei maschi, oceano, ceo, crio, iperione, giappeto, crono e sei femmine, tea, rea, temi, teti, febe, mnemosine, i tre ecatonchiri, o centimani, briareo, gia e cotto, mostri con cinquanta teste e cento braccia, i tre ciclopi, bronte, sterope e arge, tutti con un solo occhio in mezzo alla fronte. Gea generò da sola Ponto, il mare, con il quale si unì e dal quale ebbe Taumante, che secondo alcuni fu padre delle arpie, ebbe Forco, la personificazione del mare in tempesta, Ceto, la personificazione delle insidie che si celano nel mare in tempesta, ed Euribia, personificazione della violenza tempestuosa del mare. In quel tempo Gea scelse Urano come sposo, e iniziò così il regno di Urano, che assieme a Gea governavano il creato. Urano, disgustato dall'aspetto mostruoso dei suoi figli, i giganti, gli ecatonchiri e i ciclopi, e ossessionato dall'idea che potessero privarlo un giorno del dominio dell'universo, li fece sprofondare al centro della terra. Gea, triste e irata per la sorte che il suo sposo aveva destinato i figli, decise di reagire. Costruì, all'insaputa di Urano, una falce con del ferro estratto dalle sue viscere, e radunati i suoi figli, chiese a tutti di ribellarsi al padre. Uno solo, il più giovane, osò seguire il consiglio della madre, il titano Crono, che armato dalla madre, si nascose nella terra e attese l'arrivo del padre. Era infatti abitudine di Urano di scendere la notte dal cielo per abbracciare la sua sposa nell'oscurità. Non appena Urano si presentò, Crono saltò fuori e con una mano immobilizzò il padre, mentre con l'altra lo evirava con il falcetto. Il sangue che sgorgava copioso dalla ferita fecondò Gea, dalla quale nacquero le erinni, divinità infernali, le ninfe meliadi, ninfe dei frassini, protettrici delle greggi, i giganti, creature gigantesche della forza spaventosa, simbolo della forza bruta e della violenza sconvolgente della natura, quali i terremoti e gli uragani. Dalla spuma delle onde, creata dai genitali di Urano, che cadevano nel mare, si generò Afrodite, la dea dell'amore. Urano riuscì però a scappare lontano e da allora mai più si avvicinò alla terra, sua sposa. Il governo della terra sarebbe toccato al più anziano, oceano, uno dei titani, ma Crono, con l'inganno, riuscì a impossessarsi del trono e a regnare sul creato. Iniziò così il regno di Crono. La prima cosa che fece Crono fu quella di liberare i suoi fratelli dalla prigionia alla quale il padre li aveva relegati, a eccezione però dei ciclopi e degli ecatonchiri, nei confronti dei quali nutriva seri dubbi sulla loro lealtà nei suoi confronti. Questo fu un grave errore da parte sua, errore che, negli anni a venire, gli sarebbe costato molto caro. Per continuare l'opera della creazione, Crono scelse come sposa Rea, una dei titani, sua sorella. Nel frattempo la grande opera della creazione continuava e numerose divinità apparivano, le graie, eris, nemesi, le moire, elios, selene, eos, iride. Correa, Crono ebbe numerosi figli, fra cui tre maschi, Poseidone, Ade, Zeus e tre femmine, Hera, Demetra, Estia. Sotto il regno di Crono la terra conobbe l'età dell'oro, ma la sua tranquillità fu minata da un triste maticinio. Gli fu infatti predetto che il suo regno avrebbe avuto fine per mano di uno dei suoi figli. Terrorizzato, per tentare di ingannare il destino, iniziò a divorare i suoi figli non appena nascevano, tenendoli così prigionieri nelle sue viscere. Rea, disperata, subito dopo la nascita del suo ultimo genito Zeus, si recò da Crono e, anziché presentargli il figlio, gli consegnò un masso avvolto nelle fasce che Crono ingoiò, senza sospettare nulla. Nel frattempo il piccolo Zeus era stato portato in una caverna del monte Ida, nell'isola di Creta, e affidato alle cure delle ninfe Melissa, o Ida, e Adrastea, e secondo alcuni storiografi fu allattato dalla capra Amaltea, mentre secondo Ovidio Amaltea era il nome della ninfa Amaltea, che possedeva una capra, che aveva due capretti, la quale costituiva l'orgoglio del suo popolo per le superbe corna ricurve all'indietro e per le mammelle ricche di latte, degne di allattare il grande Zeus. Un giorno la capra si spezzò un corno, urtando contro un albero, perdendo metà della sua bellezza. Il corno fu raccolto da Amaltea, che lo ricolmò di frutta ed erbe, e lo donò a Zeus. Anche l'ape panacride nutriva Zeus, dannogli il miele, e un'aquila gli portava ogni giorno il nettare dell'immortalità. I suoi pianti erano coperti dai cureti, che battevano il ferro per impedire ad alcuno di sentire i suoi vagiti. Zeus, quando fu grande a sufficienza, salì in cielo e con l'inganno fece bere a Crono una speciale bevanda preparata da Metis, che gli fece vomitare i figli che aveva divorato, e dopo ciò dichiarò guerra al padre. Ebbe così inizio una lunga guerra, che durò dieci anni, che vide da una parte Crono, al cui fianco si schierarono i titani, e dall'altra Zeus, al cui fianco c'erano tutti i suoi fratelli. Entrambe le parti si battevano senza esclusione di colpi. La terra era devastata dai titani, che con la loro forza cambiavano i contorni della terra, distruggendo montagne e scagliandole nell'Olimpo, il monte più alto della Grecia, dove Zeus e i suoi fratelli avevano stabilito il proprio regno. La guerra sarebbe andata avanti ancora per parecchio tempo, se Gea non fosse intervenuta, per consigliare a Zeus di liberare i ciclopi e stringere un'alleanza con loro. I ciclopi, per ripagare Zeus di avergli reso la libertà, fabbricarono per lui le armi che sarebbero entrate nella leggenda, e con le quali avrebbe retto il suo regno dalla cima dell'Olimpo, le folgori. Zeus liberò anche gli ecatonchiri, che con le loro cento braccia iniziarono a scagliare una quantità infinita di massi contro gli alleati di Crono, che assieme alle folgori scagliate da Zeus decretarono la vittoria finale. Sulla sorte che Zeus fece fare al padre Crono ci sono diverse ipotesi. Secondo alcuni gli fu concesso di regnare nelle isole dei Beati, ai confini del mondo, secondo altri fu condotto a Tule e sprofondato in un magico sonno, secondo altri ancora fu incatenato nelle più profonde viscere della terra. Certa è invece la sorte che fu destinata ai titani, furono incatenati nel Tartaro e la loro custodia fu affidata agli ecatonchiri. Terminava così il regno di Crono, secondo sovrano della divina famiglia, e aveva inizio quella di Zeus, terzo sovrano e suo figlio.